Adesso è acceso, di tutte le cazzate che vuoi. Ho detto che adesso che mangio, se c'è anche un bicchiere di vino rosso, al ritorno faccio tutta strada. Sicuro? Con il vino rosso puoi fare quello che ti pare? Sì. E ho filmato lui con la neve dietro. Sì. Ah, è tanto accesa? Sì. Mi dice che ha pure qua l'ostacolo. Puttana, oh. Orche bestia. Fermati qua, che te che te schisciano. Vieni con me che andiamo di là. E scusa mia, non potevamo schiacciarlo, eh? No, no. Va che figata che è. Eh, va che bello. Scuso, ma è. Giusto? Non potevo schiacciarlo, eh? O no? Non potevamo schiacciarlo. No, no, no. Schiacciarlo. Ecco, basta. È andato a filmare il rifugio dentro. Perché devo filmare il rifugio dentro? Perché è uno spettacolo. Prego, guarda. Bello. Questo è sempre aperto. Bello, bello. All'embijou. Guarda. Questo è sempre aperto. Quello non lo chiediamo. Bello, bello, bello. Poi qua ce l'ho visto. Eh, quello è il bello, eh? Spettacolo. Ciao. 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 Ciao.